Ultimo di due tavoli qui al Power Poker Championship di Portorose, vedete il primo dei due tavoli con Mandrake e Nambi Omar, uno sguardo anche al grande sec di Baruzzi che ha appena vinto un piatto con Mandrake, un piatto ad 800k che sicuramente ha rinforzato le sue chance per arrivare al final turbo, in un altro tavolo vediamo Pepineros e Antani, vedete anche qui alcuni grandi ricordiamo i bui che a questo punto della giornata sono 6.000-12.000 con l'ante a 1.000, ultimi 15 giocatori in gara e la giornata continuerà fino a quando noi riusciremo a trovare i 9 componenti del final table di domani